Eccolo qui, Luigi Fresco, buonasera, mister, l'aveva preparata bene questa partita e nel primo tempo si è visto, poi nella ripresa cosa è accaduto? Abbiamo avuto un momento, c'è questo fuoriclasse che è dalle monache, secondo me, che ci ha messo in difficoltà, ha fatto questo assist, ha fatto ed è stato decisivo. Poi sulla punizione, lì è stata anche un po' fortuita la cosa, respinta, tiro di nuovo, così. Però decisivo è stato il gol del 2-1, questo ragazzo ce ne ha fatti due l'andata, adesso ha fatto questo assist, è veramente, dicevo che come Zene che li ha lanciato in mobile, in signe, Baiano, Signori, Rambaudi, adesso lancerà questo qua, che per me è pronto ad andare in Serie A. Sì, infatti è un giocatore che dovrebbe il prossimo anno giocare in Serie A. Fresco, lei aveva lasciato ad inizio di partita diversi titolari in panchina pronto a giocarsela eventualmente nel finale di partita sul risultato di parità. Era così? E' quella che è stata un po' strana, perché abbiamo tenuto botta con fuori dei titolari nel primo tempo, per poco non vincevamo anche. Nel secondo tempo ho cominciato a inserire, però dopo quando prendi quel gol lì cambia tutto, no? Si aspettava questo Pescara un po' timoroso nel primo tempo e sicuramente migliore, autoritario nella ripresa. Sì, poi fa tanto il pubblico, ma è anche vero, perché è un pubblico fantastico, faccio i complimenti, una bella tifoseria che incita la squadra e di far rendere di più. Insomma, avere un pubblico così alle spalle non è cosa da poco. Ecco, lei lo aveva detto anche alla vigilia di questo doppio confronto con il Pescara. Siamo orgogliosi di andare a giocare in un grande stadio con una squadra che qualche anno fa giocava in Serie A. Per voi questo è stato un punto molto alto nella storia della Virtus Verona? Grande stadio, grande pubblico, grande società, grande squadra, grande allenatore, tutto grande. Per noi è stato bello. Ecco, il Pescara è ai quarti di finale. Secondo lei questa squadra ha i numeri, ha le possibilità per poter arrivare in fondo? Secondo me può arrivarsi, però se non dovesse farci, non dovesse c'è un senso di sconfitta, perché come ha detto Zenec, dei play-off a 28 squadre sono disumani, vero? Perciò non è facile. Ragionate che statisticamente all'inizio ogni squadra aveva due o tre possibilità su 100 di poterle vincere. Perciò è in questo momento Pescara ne ha 12, perché sono otto squadre. Perciò ti fate, sperateci, credeteci, ma non caricate troppo di responsabilità a questi ragazzi, perché non è facile. Anche lei farà un po' il tifo per il Pescara da domani? Sicuramente, sicuramente sarò molto contento se Pescara ce la fa essere promosso. Anzi, chiedo a Daniele di essere invitato alla festa eventualmente. Anzi, chiedo a Daniele di essere invitato alla festa.